Allora, questo posto è il Damm di Carmando Maradona Montesanto, è dedicato a Maradona e un centro sociale occupato. Qua si fanno tante attività per i bambini, per i giovani del quartiere. Qui ci fanno le attività di giocolerie, acrobatica, attizie di cenze. Chiaramente è tutto organizzato da chi lo fa, non ci sono finanziamenti, non ci sono fondi. Tutto il parco che vedrete dopo è la palazzina è stata abbandonata dopo essere stata costruita nel 1992 e noi abitanti del quartiere l'abbiamo occupata e l'abbiamo trasformata. Qui c'è un'altra sala, qui c'è una biblioteca ed è uno spazio per laboratori con i bambini. Una bella saletta dove qui si tengono le riunioni del collettivo di gestione del Damm per risolvere i problemi che sempre ci sono e proporre dei progetti. Stiamo facendo un centro di ascolto per le tossicodipendenze, è il problema dei ragazzini che a 13 anni si distruggono il rivoluzionario. Qua c'è il teatro, che è un nucleo molto presente attualmente del Damm. Loro sono uno dei gruppi che fanno parte del Damm e che quindi provano il Damm. Recentemente hanno rimesso a posto tutta la sala. Si producono spettacoli e si cerca di fare un discorso abbastanza indipendente rispetto al circuito ufficiale. E niente, è il teatro, qui si fa anche i Ceneforum, insomma, si fa quel che si può. Grazie. Grazie.